Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, il freddo è arrivato e quindi sono qui per mostrarvi due arrivi che mi ha inviato Motif per il mio profilo Instagram e ancora non ho pubblicato, poi non lo so, dipende quando pubblicherò questo video. E due o tre acquisti che ho fatto io sul sito di Shein, li ho voluti acquistare io con il mio codice sconto perché ho un codice sconto palido su tutto il sito Shein, magari ve lo lascio scritto qui, del 15% anche su prodotti già in offerta. E quindi ne ho approfittato perché lì, per esempio, i maioni sono molto belli e costano veramente poco rispetto a altri negozi fuori. Quindi, perdonate questi capelli un po' boccolosi, ma li ho appena fatti e più tardi li aprirò, anche perché sta piovendo tantissimo e quindi vorrei mantenerli un po', perché tanto già so che stasera cadranno tutti quanti. La frangia un po' non l'ho fatta tanto bene, però vabbè. Sono ancora tutta rossa, infatti perché col calore comunque ci ho messo un po' di tempo, perché effettivamente ho tanti capelli. Ok, allora vi mostro prima appunto le cose di Motif, che è la linea premium di Shein, che è un cardigan e un maioncino, ed è bellissimo. Ancora non ho fatto foto in nulla, quindi magari vi lascio anche il link del mio profilo dove potrete poi vedere le foto. Allora, questo è il maioncino, un semplice maioncino bianco, fatto così con questa trama qui, le maniche così, è molto caldo e ha la particolarità che sono a spalla già questi due bottoncini tipo perline. Fatto così, davvero davvero bello. Le campane. Faccio ancora il cartellino proprio. La cosa bella di Motif è che c'è sempre questo cartoncino qui, dove all'interno c'è sempre i bottoni di ricambio, un bottone di ricambio, quindi in questo caso, ma qualsiasi, sia cappotto che sia un vestito, se c'è un bottone qui, c'è qua dentro. Quindi questo è veramente carino, l'ho pensato anche da mettere sotto ad una giacca, perché è molto sottile e poi è dritta, non è larga. Questo bellissimo cardigan bianco e beige, con questa trama qui, righe, di base all'arroncino e poi bianco. È un semplice cardigan, io ho preso la taglia M perché l'ho pensata poi da mettere sopra appunto al maioncino che vi ho appena fatto vedere, anche se è un po' troppo largo per me, quindi non lo so. Se mi va proprio tanto largo, lo darò a mia madre. Ed è fatto veramente bene, oltre che è morbidissimo, veramente. Ovviamente, veramente morbidissimo. Anche in questo caso c'è il bottoncino di cambio. E qui i bottoni però sono abbastanza semplici. Ecco, plasticoso, semplice, però tutto sommato non è male. Molto molto caldo. Ho comprato invece io, che ho scelto io. Sono un pochetto particolari perché diciamo che qui trovo sempre i soliti maioncini. Su Shein invece si trovano molte cose, pure sfiziose. E quindi vi mostro questo maioncino qui, pagato pochissimo, veramente pochissimo, è sui 10 euro. Di questo colore, un arancio chiaro e azzurro a rombi. Questo mezzo collo, un po' qui, diciamo, palloncino leggermente, queste piccole balze qui che fanno questo effetto un po' pomposo. La manica un po' larga e il polsino così. Questo è carinissimo, l'ho pensato su di un jeans ovviamente, magari con degli stivali marroncini. Per richiamare l'arancio, ma è bellissimo e poi ben fatto. Cioè, guardate quanto è bello. Davvero bello. Né lungo e né corto. Ci sono altri colori, ma mi è piaciuto tanto questo qua perché è un po' particolare. Ha il suo perché. Veramente pagato pochissimo. E vedete, è caldissimo, cioè, fatto veramente bene. Poi, il mio preferito, ovvero questo maioncino. E questo costa veramente sui 10 euro sotto i 10 euro perché poi ho applicato il mio codice sconto. Fatto così. Questo è leggermente meno pesante di questi che vi ho mostrato, ma è carinissimo. Questo bianco panna con questo collo. Queste applicazioni, applicazioni gioiello, che poi non sono incollate, ma bensì sono cucite. Quindi significa che dureranno, a differenza di quelle incollate. Quindi questo collo, questo colletto qui, con queste bellissime, bellissime applicazioni. Con questo disegno, sul maioncino, manica, leggermente a palloncino, a sbuffo, a me piace tantissimo. E il polsino bianco. Questo è il mio preferito. E ho preso la taglia S perché appunto, leggendo sul sito, effettivamente è un po' allargina. Però è corto, diciamo, che è un po' più ampia. Mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Questa non vedo l'ora di utilizzarla, anche perché avendo questi buchetti posso utilizzarlo prima. Poi quando ci sarà quel freddo freddo, vabbè, poi non si adeguano. È abbastanza particolare. Ed è questo qui. Questo maione di questi colori bellissimi, arancia e fucsia, fondo bianco, arombi, collo e polsino bianco. Ecco, questo è davvero caldissimo ed è fatto benissimo. Cioè, guardate, va veramente benissimo. Ho preso taglia M, molto oversize, direi, guardate. Credo che una S ci stavo meglio, però non l'ho voluto nemmeno rendere perché potevo fare comunque il reso che su Shein è gratuito. Ma no, l'ho pensato magari largo così, con dei jeans a vita alta, oppure magari poi possiamo metterli nei jeans e farlo uscire un po'. Non so. Ci penserò. Comunque è così. E questo è anche molto bello, perché è particolare. Cioè, questo è un Shein imita i brand. Un maione del genere da Zara, lo paghiamo sui 50-55 euro, mentre invece, per poi vederlo ai saldi, 20 euro. Anche perché quello è il vero valore di questi maioni, no? Voglio dire, già sappiamo la politica, eccetera, di tutti questi brand, non solo di Shein, ma di tutti i brand, purtroppo. E almeno qui, sui 10 euro, cioè, insomma, si risparmia. E hai lo stesso capo, fatto bene, caldo e anche bello. Io ho finito, tornerò presto con un altro video. E nulla. Ci vediamo presto.